Tutto pronto? Partite! Le cavalle dello Shantra. Un po' lento break di Eola della Plata che si rimette in carreggiata mentre dal gruppo emerge Turandò a scaldire le frazioni iniziali. Greta Ventura a viaggio a largo di Missy Summer a precedere Nicotera che ha all'interno zampa di velluto. Più dietro vaggiano Sadil e Pamparane a chiudere il gruppo Eola della Plata. Turandò in testa, andatura tutt'altro che disprezzabile su Greta Ventura che viaggia in seconda a largo in giubba blu e bianca. All'interno invece Missy Summer in terza posizione, la dormigliana Nicotera è quarta su zampa di velluto in giubba gialla e in giubba rossa Sadil. Poi ancora Pamparane a giubba verde con le cuciture gialle a chiudere il gruppo la grigia Eola della Plata. Schema che non varia con l'andatura di Turandò che non permette cambiamenti. Cambia il fatto che Greta Ventura adesso è seconda più netta davanti a Missy Summer che viene avvicinata da Nicotera. Zampa di velluto che si mantiene a cento gruppo con vicino Sadilla. Poi ancora per corsie larghe Pamparane a chiudere Eola della Plata. E' leggermente aumentato in questa fase di corsa il vantaggio di Turandò che lo incremento ulteriormente sulla piegata. Greta Ventura è con lei che dovrà ricucire questo strappo con Nicotera e Missy Summer in scia. Poi ancora Sadilla su zampa di velluto. Ancora Pamparane a chiudere Eola della Plata. Turandò a questo punto gioca a lunghissimo anticipo quando entra in retta derivo ai 600 metri finali. Nicotera che sposta da Greta Ventura per lanciarsi in inseguimento. Pamparane che ne prende a sua volta la scia. Poi ancora Sadilla, Missy Summer, zampa di velluto e della Plata. E ancora davanti Turandò. Le cattive si avvicinano nel 400 con Missy Summer che trova spazio. Pamparane che si prepara a largo di tutti. Ancora in quota Greta Ventura. Poi ancora Sadilla con Turandò che deve difendersi da Missy Summer. Greta Ventura è soprattutto a largo da Pamparane che sta scattando in maniera violenta. Pamparane che tira fuori la frazione finale per andare su Turandò. E le altre nell'ultimo tratto di corsa. Pamparane con Dario Vargio che cala al poker. Al secondo posto Greta Ventura, Missy Summer e Turandò. Uno, due, tre, quattro. Questo è il biglietto da vista di Dario Vargio dall'apertura di San Siro per andare in caccia dello scudetto. E colpisce in chiusura con Pamparane. Sempre per il Timbotti. La scuderia Iirago ha i colori. Grazie. 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 Grazie.